Il mondo dello spettacolo e degli spettacoli sta tornando ad avere contatto con il pubblico, un lento ritorno alla normalità che sembrava in discesa ma che la situazione attuale mette nuovamente in allerta. In occasione dell'evento di Street Food che l'ha visto protagonista Marostica nei giorni scorsi, l'attore siciliano Tony Sperandeo è intervenuto parlando di vaccini e del futuro del comparto artistico senza risparmiare critiche alla classe politica. Partiamo da una considerazione sul mondo dello spettacolo, un mondo dello spettacolo che ha vissuto sicuramente due anni molto difficili. Ma non solo lo spettacolo, tutti i settori sono rimasti handicappati da questo lockdown, però se comincio a parlare è diventato polemico. Gli unici che non hanno subito variazione di incassi sono stati gli stipendi dei politici che si facevano il loro dovere, però non hanno fatto niente, infatti siamo il terzo anno e sta aumentando di nuovo. E qua c'è una grande confusione. Io non sono un virologo, non capisco perché la gente non si vuole vaccinare, c'è ancora quel 10% che significa 6 milioni e mezzo. Il fascino di Marostica è stato poi d'ispirazione per l'attore che in anteprima ai nostri microfoni svela un progetto importante ambientato proprio nella città degli scacchi. Tanto di cappello e di un'eleganza estrema, c'è una cosa bellissima questo castello, questa partita a scacchi. La gente per bene, elegante, pulita. Perciò complimenti a Marostica e alla provincia di Vicenza. Apro e chiudo parentesi. Vedendo questa scenografia vivente, io ho pensato, c'è una novella in inglese, Johnson, me ne ricordo come si chiama, che voglio fare un cortometraggio qua, se il comune mi dà la possibilità di farlo in costume, ambientato nel 1400-1600, con tutti i costumi, con i carri, farò una cosa spettacolare, un cortometraggio. Un evento che racconterà su... Vete veneta, assolutamente sì.